Quale è la tua opinione dell'italiano baskeballo oggi, a livello nazionale e a livello nazionale? Penso che i tanti italiani devono andare a vedere fuori del tuo paese, perché Milano è l'unica elitica europea? Ok, ora il livello dell'italiano baskeballo è un po' diverso. Lo che sto parlando è che in ultimi 5 anni abbiamo avuto molti giocatori che sciogliano di giocare negli l'NBA. alcuni sono nella giaria, alcuni è nel mercato libero o alcuni giocatori che hanno accostato delle tassette in Europa come si l'ha avuto il fenerbahce e che vanno i titoli european come un club, e tutto, può provare che ora l'italiano stia in forma. Per te la verità, il risultato della squadra nazionale non può rilassare con il livello dell'italiano. Magari ora abbiamo alcuni piccoli, alcuni giocati e promessi, ma la base è abbastanza piccola. Non recruttiamo giocatori come nel passato. Abbiamo rilassato di avere programmi di nuova solida all'interno del paese perché della crisi economica, ma anche delle strategie di squadra. Abbiamo cambiato un po' la visione. E per te la verità, in mia opinion, questo è qualcosa che non aiuterà l'italiano in futuro. Perché ora, per esempio, alla squadra nazionale con il junior, 18 e under, 16 e under, ho visto il livello diminuisce. Quindi la qualità dei giocatori, la qualità dei giocatori e la qualità dei giocatori e la loro preparazione non è così buona come ho aspettato. Quando vedo, per esempio, persone come Bellinelli o Gallinari performano in l'NBA, o persone come Hackett, Melli e Atome performano in l'Euroleague, pensate, questo è il miglior momento per l'italiano. Non è così. anche Milano sta cercando di fare molto e meglio in Europa. Questo è qualcosa che può aiutare il loro programma per avere una migliora esposizione, ma non vedo tantissime avvantaggi nell'italiano. Adesso la distanza tra Milano e il resto dei giocatori è troppo grande. E questo è il motivo per cui io assolutamente con te quando parli di più per i giocatori italiani ma anche per i giocatori italiani guardare un'altra parte del mondo e rendere il loro mercato più grande. Voglio raccontare un numero semplice che ho scelto un po' di settimane fa. 19 giocatori che sanno in ultimi due o tre anni in A1 benches o A2 benches come coach professionali oggi sono senza un lavoro. Quindi questo è un numero che può rendere la visione di quello che le persone del basketball in Italia dovrebbero fare per aiutare per avere la migliora carriera e la migliora esposizione possibile. essere dentro del nostro paese non è sufficiente.